Significa poter essere portavoce, anche in questa occasione, di un messaggio di uguaglianza universale e questo mi fa sentire molto orgogliosa. Significa per me poter abbandonare qualsiasi tipo di etichetta e poter guardare solo al cuore delle persone, alla loro essenza e alla loro unicità. Senza dubbio Whitney, la cantante che in assoluto mi ha ispirata sin da quando ero bambina, ma in realtà moltissime altre, poi tra le italiane Anna Oxa, Milva, Ornella, Vanoni, icona vera. Beh, darei il consiglio che ho dato a me quando ho iniziato è quello di non imitare nessuno, farsi conoscere esattamente per come siamo. Vorrei un futuro pieno di possibilità, che tenga conto del talento e del messaggio che ognuna vuole trasmettere, cioè con la stessa libertà che mi ha permesso di vivere un'intera vita in musica. A presto! A presto! Ciao